Brutte disavventure per due nostri concittadini, a cui prima hanno rubato l'auto, poi le hanno ritrovate completamente cannibalizzate. La prima è stata rubata in via La Rover e l'altra in via Mazzini. Ritrovare la propria auto dopo 23 giorni può considerarsi fortuna, dice arrabbiata la proprietaria su Facebook. Non so a quanto ammonta la spesa effettuata per installare le telecamere comunali, ma spero non sia così alta, visto che grava sulle tasche di noi cittadini e la loro efficienza pare sia molto minima, dato che nei punti nevralgici sono messe così alte da non inquadrare i piloti e il copilota. Bitonto non è un paese sicuro, incalza l'altro proprietario sempre su Facebook, rivolgendosi al sindaco Michele Abbaticchio. Questo non è un paese che permette alle persone di esprimere la propria personalità, non è un paese che può rappresentare professionisti e gente per bene, non può offrire possibilità di crescita socio-professionale e chiosa al primo cittadino, poi non si chiede il motivo per cui la gente come me se ne vuole andare. Bitonto con me ha chiuso.